E' allarme gelo nelle campagne del nord Italia. Ad essere seriamente a rischio sono le verdure e gli ortaggi coltivati in pieno campo, messi a dura prova dal forte e repentino abbassamento delle temperature accompagnato da gelate mattutine. Cavoli, verze, cicorie, broccoli rendono anche temperature di qualche grado sotto lo zero, ma se la collolina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe, si verificano danni. C'è un po' di preoccupazione. C'è la preoccupazione che questo freddo, che diciamo che può essere normale in inverno, perché non ci deve stupire che in un inverno le temperature scendano sotto zero, che preoccupa un attimino è la frequenza di questi fenomeni. Ormai registriamo qualche giorno e qualche notte, soprattutto dove la temperatura è scesa sotto zero. La preoccupazione è che duri tanto e che si mettono risoli e coltivazioni in pieno campo. Si parla di cavoli, di verza, di broccoli, che sono piante invernali, ma che appunto se subiscono troppe e frequentemente queste temperature basse, c'è il rischio che poi non siano più utilizzabili e commerciabilizzabili. Per cui la preoccupazione degli operatori è proprio questo, che si rischi di non avere il prodotto da immettere sul mercato. Un inizio di anno preoccupante, dopo che le anomalie del 2021 hanno già ridotto i raccolti di riso, grano, olio e miele. Poi tutto questo si inserisce in un anno tutt'altro che semplice, perché sia per le coltivazioni in pieno campo che per le coltivazioni in sera, soprattutto, c'è una grossa preoccupazione per i crescenti costi di produzione. Il crescente costo energetico, fino al 50-60% in più rispetto agli anni precedenti, stanno mettendo a rischio i redditi delle imprese agricole. La preoccupazione per i nostri associati è riuscire appunto a coprire quanto meno i costi di produzione e in questo periodo la situazione è davvero difficile.